Si chiama Rui Patrizio ed è il nuovo portiere della Roma. È sbarcato oggi, 13 luglio 2021, all'aeroporto di Fiumicino ed è il primo colpo della nuova stagione guidata dal CT, dal commissario tecnico José Mourinho. Parla la sua stessa lingua e portoghese, ancora non ha dato alcuna dichiarazione e si sta trovando a fare attualmente le visite alla clinica Villa Stewart di Roma. L'uomo, 33 anni di età, poi si legherà a Trigoria, saluterà i nuovi compagni e ovviamente anche il CT, il commissario tecnico, José Mourinho e metterà il contratto, metterà la firma sul contratto da ben 2 milioni di euro a stagione. Lo legherà proprio alla Roma fino all'anno 2025. Un accordo importante, un accordo che vediamo come un auspicio positivo per lui ma anche per la Roma, sperando che sia bravo e quindi in gamba nel parare ogni palla che eventualmente arriverà nei suoi riguardi, nei suoi conflitti importanti. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi al canale Naradovitaliano, commentate, un saluto mi caro e tanti auguri di buon lavoro a proprio questo giovane uomo, lui Patricio, come portiere della Roma. Ciao!